... Roba alla grande ragazzi, alla grande, che felicità! Bene, perché a me piacciono gli uomini di esperienza che sanno distinguere. Guardi, è forse colpa mia se mi escono tutte di fuori. E che roba è? Non si fanno queste cose. Prima promette, poi non mi andieni. E a me mi hanno dato questa cosa piccola, bruttarella pure, che sembra un cesso. Sembra. E' un cesso. Ancora lei? O se ne vado e si vergogni, turpe, guardone e laido. Laido non me lo può dire, sai, perché io vado a messo ogni domenica mattina, anche se lei legge l'osservatore romano. No, non fa niente, io me ne frego di queste cose. La felicità è lo stesso. C'è Salce, Luciano Sergio, ma pretitipatia. Che brevo, quando è brevo. Abbiamo creato una specie di simbiosio in lui, anche perché ha capito la mia provenienza, diciamo, la mia cultura, la mia intelligenza. Vieni a partire, cretino! Presenne, vieni fuori. Presenne, superiore, guardi che io non c'entro. Ah, sì, sempre così, vogliamo. No, no, non c'entro proprio dal buco. Mio Dio, sono loro i miei fratelli. E io li affronto da uomo a uomo. A dieci secondi di tempo, mi dica a che specie, sottospecie e famiglia appartengono. Eh, vabbè, ma scusi, io vedo solo il culo. La coda, prego. Vabbè, ma la coda sta vicino. Va bene, allora me lo faccia vedere. Perché si vergogna? Lo vuole vedere? Ecco io, ma la vogliamo finire con sta storia. E lo vuole vedere? Guardi qua, è a Rossetta, è a Tocco. Signore, non ce l'ho mezzo prosciutto? No. Quattro uova. Vieni, e non te ne pensi mai? Io c'ho beve, sono due giorni che lo faccio io. C'è beve, non ce l'ho beve, non ce l'ho beve. Ma che stai facendo, Pasquale? Fa una prima Spale. Ha risposto all'annuncio ed è stato subito assunto. Gamma, Grotamil, Traseptina, 28%. Fosfatase alcalina, 0,57%. Reazione di Kunker-Wurman, 42,9%. Non avranno che ha preso il cortison chimicitina? Ha preso la metropolitana. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Mi, mi, mi! La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.